bene settimana finita per quanto riguarda 3 santa e quindi andiamo a vedere quanto sono riuscito a guadagnare in cripto valute questa settimana con il bot ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono davide andiamo a vedere quanto guadagnato sia in ethereum che in bitcoin con il bot trade santa con sapete benissimo le mie strategie adesso andremo a rivederle a rivalutarle poi insomma vi mostrerò quanto sono riuscito a guadagnare ma intanto vi chiedo prima di tutto di lasciare un like per voi è gratis a me serve tantissimo e inoltre di commentare facendo qualsiasi domanda logicamente inerente al mondo delle cripto valute o anche a un complimento a una critica qualsiasi cosa potete scrivere nei commenti è sempre gratis iscrivervi al canale e attivare la campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare inoltre tutto ciò che dovrò dire non sono consigli finanziari ma sono mie opinioni personali basate su esperienza e studi fatti nel tempo bene allora siamo su tre santa vedete che c'è stato un aumento di capitale abbastanza importante perché sono arrivati degli scaglioni che avevo inviato qualche tempo fa è arrivato sia ethereum che teoricamente è arrivato anche un altro invio che ho fatto proprio due giorni fa una cosa del genere non mi ricordo precisamente però insomma non è quello l'importante l'importante è andare a vedere prima di tutto riguardiamo le bot che ciò attivi allora ho un bot su ethereum ad a quindi cardano in long quindi praticamente che utilizzo ethereum per acquistare ad a cardano nel momento in cui sale rispetto ethereum viene venduto ad a per riacquistare ethereum più ethereum e questo mi permette di avere una plusvalenza in ethereum vedete ho una posizione già aperta è già molto vicino questo significa che sta vicino al take profit e andrò poi a fare insomma il take profit da qui a breve altra cosa o ethereum ad a in short quindi praticamente che succede utilizzo ad a per acquistare ethereum nel momento in cui il valore di ethereum sale riacquisto le stesse quantità di ad a quindi spendendo meno ethereum rispetto a quello che ho comprato con ad a e in questa maniera la differenza che rimane all'interno portafoglio è la plusvalente la plusvalenza e quindi il take profit questi sono gli short idem con bitcoin link vado a utilizzare link per acquistare bitcoin poi quando aumenta scusa diminuisce il valore di link o aumenta il valore di bitcoin vado a riacquistare la stessa quantità di link con il bitcoin che ho acquistato precedentemente e in questa manenza in questa maniera la differenza di plusvalenza va fa sì che il insomma che riesca a riacquistare la stessa quantità di link ma ad avere una plusvalenza in bitcoin idem su tron bitcoin in short e poi tron bitcoin in long quindi utilizzo bitcoin per acquistare trono appena sale trono rispetto a bitcoin riacquisto bitcoin e quindi c'ho una plusvalenza rispetto all'investito vedete qui sono già al 22 entrate su il quara su 40 che inserite qua sono a 0 qua sono a 4 4 e 1 quindi la mia strategia è nient'altro che 5 bot di cui quattro contrapposti ethereum ada e poi bitcoin trx qua ho sbagliato messo et e ht vabbè devo andare a modificare però insomma questi qui e poi c'ho bitcoin link che dovrò andare a creare insomma il bot contrapposto in bitcoin in long sul link il prima possibile significa investire in circa 150 dollari ancora è una cosa che farò molto probabilmente entro il prossimo anno anzi all'inizio del prossimo anno perché in questo momento sapete benissimo che i miei due obiettivi sono riuscire ad arrivare ad avere 0,1 bitcoin in in bloc fai e avere comunque aumentare il mio portafoglio in tron e avere 2000 euro da parte di fondo emergenza il fondo emergenza è praticamente perfettamente alla metà quindi in tre mesi devo riuscire ad ottenere il mio totale di fondo emergenza perché molto più importante della quantità di investimento che sto facendo in crypto luta perché in crypto luta volevo mantenere una media di 100 euro al mese sono qualcosina in più ma in questo momento non mi interessa perché comunque credo di riuscire a mantenere costante questo ingresso e quindi voglio andare a beccare il il mio insomma fondo di emergenza riuscire a portarlo a termine andiamo comunque a vedere anche se sapete ormai benissimo che io non sto seguendo più il il come si chiama il profit dynamic quindi il profitto dinamico perché questo viene calcolato in base ai guadagni e al valore delle crypto lute che ho guadagnato in quel periodo quindi non mi interessa non è calcolabile ma andiamo a vedere invece in dc a bot risultati in dc a bot risultati possiamo vedere quindi quanto siamo riusciti a guadagnare in take profit all'interno dei bot allora basta andare a prendere il questa quantità di ethereum quindi 56 34 99 e andarla a portare nel mio foglio di calcolo dove ho già inserito le quantità della settimana precedente poi fare la sottrazione tra questa qui e quella precedente e vedere quanto fatto in una settimana molto semplice bene quindi 0.056 34 99 vado a fare una semplice operazione di sottrazione quindi questo meno questo precedente faccio invio è praticamente in questa settimana ho guadagnato 0.00 31 98 63 ethereum andiamo a fare la stessa cosa anche su bitcoin e vediamo praticamente quanto siamo riusciti a guadagnare in questa settimana con bitcoin adesso devo vedere se funziona si funziona perfettamente andiamo a vedere quanto ho guadagnato in bitcoin che sono 79 27 81 quindi andiamo inserire qui ho guadagnato questa settimana 30 diciamo sono 1234 quindi 30.217 satoshi e questo il guadagno di questa settimana sia per bitcoin che per ethereum molto probabilmente dall'anno prossimo avvierò anche dei bot su bnb solo che bnb c'è un piccolo problemino praticamente dato che viene utilizzato bnb per andare a pagare anche le fee di transazione di tutte di tutte insomma le transazioni che vado a fare con bitcoin c'è il problema che comunque non riuscirò a rilevare realmente quanto sto guadagnando perché anche se andrò a guadagnare andando a vedere su risultati comunque saranno sottratti per ogni transazione che verrà fatta però è un ottimo metodo per far sì che vadano a lavorare dei soldi che vadano a pagare il lavoro di altri soldi non so se mi sono spiegato quindi i soldi che investirò su bnb serviranno proprio per far sì che bnb continui a lavorare per se stesso e quindi ripagare i bnb che utilizzo per le transazioni come fee all'interno del di binance questa è una cosa di cui volevo fare l'upgrade prima però dato che sapete benissimo per il lavoro anche se l'ho trovato tra parentesi nell'arco di soltanto due settimane addirittura due lavori ma ho scelto uno e comunque dato che c'è questo piccolo problema allora a questo punto molto probabilmente andrò a fare un upgrade nell'anno successivo prima devo riuscire a chiudere i miei obiettivi che sapete benissimo quali sono e quindi questo è quanto beh questi sono le varie transazioni che vengono fatte ogni momento se vedete le transazioni comunque sono abbastanza basse quelle alte sono da 11 centesimi altrimenti sono due centesimi due centesimi un centesimo e questo è un problema che andrò a migliorare proprio l'anno successivo nel 2021 dove cercherò di aumentare il capitale e quindi di aumentare anche le entrate per singolo per singolo bot anche se ho un piccolo dubbio se andare ad aumentare le entrate per singolo bot o andare ad aumentare i bot al lavoro perché in questa maniera andando a lavorare su diverse cripto lute ho la possibilità di andare a diciamo valutare quindi diversificare le entrate per bitcoin ed ethereum questo è un ragionamento che poi andrò a fare più in là e andrò a vedere quanto conviene fare uno o quanto conviene fare un altro e questo è tutto io vi ringrazio per aver visto anche questa volta il video vi ricordo di mettere in piace commentare qui sotto iscrivi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e andare a visitare i miei account instagram davidevasco 85 mi raccomando cercate di mettere il like il più possibile perché il canale sta crescendo in maniera esponenziale e di questo devo esservene grati perché logicamente il canale non è che cresce per grazie di dio ma sicuramente proprio perché voi vi state iscrivendo mi state dando fiducia e di questo ne sono veramente grato sto creando un piano editoriale un po più complesso dovrebbe avviarsi teoricamente entro metà mese e cercherò di portare un po più contenuti e portare oggi contenuti importanti ma anche altri contenuti che sono legati magari a notizie informazioni un po più veloci da potervi dare perché vorrei cercare di portare sopra un canale che sia logicamente a 360 gradi sulle criptovalute ma anche nel campo della finanza personale come sapete io vado a investire il mio tempo sul canale youtube proprio per portarvi una specie di blog del mia della mia crescita verso la mia libertà finanziaria con questo è tutto vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi